Il presidente della regione d'Alfonso apre la convention sulle banche a Pescara. Firmata a Pescara la convenzione dei Fibi, la firma è avvenuta presso la sede dell'assessorato allo sviluppo economico di Pescara. Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di Teleatri Notizie, in apertura cronaca. Capita in una tranquilla giornata di sole, bambini che entrano a scuola alla seconda ora, che si danno appuntamento all'interno della villa comunale, sotto lo sguardo vigile dei genitori, per trascorrere un po' di tempo insieme, lontano dai banchi di scuola. Succede che un uomo, che le testimonianze raccontano avere circa 50 anni, gli avvicina alcuni bambini dell'età di 12 anni e offra loro delle sigarette. Una mamma nota quanto sta accadendo e si avvicina al figlio per chiedergli cosa volesse quel signore ormai lontano. Il bambino le racconta tutto e parte la segnalazione ai carabinieri. Tra i genitori si ranna che quello accaduto mercoledì mattina non sia il primo episodio. Già altre volte, a quanto pare, lo sconosciuto aveva avvicinato bambini e ragazze offrendo loro delle sigarette all'interno della villa comunale. Qualcuno che cammina in maniera goffa. Se l'uomo avvicina i bambini solo per offrire delle sigarette, ossia il preludio a qualcosa di peggio, non è dato al momento sapersi il suo comportamento. Passiamo adesso alla ricostruzione per la Regione e per velocizzare i pagamenti. L'Aquila, 11 novembre, un accordo tra Regione Abruzzo e Ministero dei Beni Culturali per il disbrigo delle pratiche relative ai pagamenti delle ditte che hanno eseguito i lavori di recupero delle costruzioni dei beni danneggiati dal terremoto del 2009. Il documento che sancisce questo accordo è stato sottoscritto oggi all'Aquila dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e dal responsabile alla Direzione Generale dei Beni Culturali per l'Abruzzo. Francesco Scoppala, grazie a questa convenzione la Regione fornisce in avvalimento alla Direzione Regionale tre unità tecniche di proprio personale su base volontarga per l'esame delle pratiche per il relativo procedimento di liquidazione. Dalla data del suo insidiamento fino ad oggi, secondo quanto dichiara Scoppola, sono state liquidate circa 230 fatture a beneficio di altrettante imprese che hanno eseguito lavori di ricostruzione di beni architettonici. A queste è presumibile che se ne aggiungano altrettante alla scadenza dell'incarico del Direttore Scoppola, fissato al 30 novembre. Da un lato c'era l'affanno della Direzione Regionale a fronteggiare l'emergenza dei pagamenti di lavori già svolti. Dall'altra, un'istituzione, la Regione Abruzzo, che si trova in una momentanea abbondanza di personale. Abbiamo fatto ciò che il cittadino si sarebbe aspettato, una razionalizzazione di risorse umane, un travaso di energie e di esperienze in perfetta assonanza con quanto stabilisce la nostra Carta Costituzionale relativamente alla collaborazione tra uffici e istituzioni diverse. D'Alfonso ha poi detto che questa collaborazione tra uffici sarà sicuramente un ottimo risultato che sarà leggibile da tutti con la velocizzazione delle pratiche di liquidazione. Ripeteremo questo modello di collaborazione anche con i piccoli comuni d'Abruzzo che sono a rischio di impedimento per quanto riguarda l'erogazione dei servizi fondamentali. Atri, pochi giorni fa, come assessore con delega al Comune Unico, ho inviato una convocazione per lunedì 17 novembre prezzo parazzo ducale ai sindaci del territorio Pineto Silvi per riprendere e dare nuovo slancio a lavori di organizzazione amministrativa dei tre comuni in risposta ad aspetti normativi e come unione di risorse economiche umane che permettano di rilanciare e rendere visibile e appetibile un territorio con forti necessità occupazionali. Lo ha dichiarato l'assessore atriano Umberto Italiani precisando che questa iniziativa ha l'obiettivo di rinforzare e andare oltre quanto già fatto negli anni passati e mi riferisco al piano sociale e territoriale, ai servizi di Polizia Municipale Unica tra Silvi e Pineto, ai servizi di Segreteria Generale Unica tra Silvi e Pineto, al Polo Scolastico Complesso tra Atri e Silvi, alla Riserva dei Calanchi Natri, al Parco Marino del Cerrano, al cartellone unico estivo di prossima realizzazione, solo per citarne alcuni e puntare l'attenzione sullo sviluppo delle opportunità di lavoro in ambito turistico, culturale, agricolo, ambientale, artigianale e commerciale. Sviluppare questo territorio tutti insieme significa, e voglio sottolineare, dare un senso alla politica locale che si è persa tra i campanilismi e poltrone inutili e restituire l'entusiasmo ai nostri giovani e non solo che stanno investendo o vorrebbero farlo, aumentando il peso specifico del nostro territorio, sia a livello regionale, nazionale ed europeo, sotto il profilo occupazionale e politico. L'Europa chiede progetti su ampia scala territoriale e per noi singoli comuni il territorio ottimale di progettazione è quello rappresentato dal territorio dell'Agera Trianus, che oggi conterebbe più di 50.000 abitanti. Passiamo adesso ad una nuova notizia. Il presidente D'Alfonso ha visitato nei giorni scorsi gli stabilimenti della tale Salenia, incontrando i lavoratori. Il presidente della regione D'Alfonso ha fatto visita allo stabilimento dell'Aquila della tale Salenia Space, dove è stato ricevuto dal presidente e amministratore delegato del gruppo Elisio Giacomo Prette. L'insediamento industriale è stato completamente ricostruito dopo che lo storico capannone di Pile era stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni riportati per il terremoto del 6 aprile 2009. Nel sito Aquilano si svolgono attività di sviluppo tecnologico, di industrializzazione dei prodotti, nonché la completa produzione di equipaggiamenti elettronici, ibridi, antenne e strutture in materiale composito per diverse tipologie di applicazioni nello spazio, come telerilevamento, telecomunicazioni, applicazioni radar per la difesa e la sicurezza in generale. Il sito Aquilano è impegnato nella produzione di moduli di trasmissione e ricezione, elementi fondamentali dell'antenna principale di missione della costellazione satellitare per il progetto americano Iridium Next, così come di altre parti fondamentali, tra cui anche il cervello del satellite. Le aree produttive in ambiente asentico sono state visitate dallo stesso presidente della regione, il quale si è detto lieto di ritrovarsi a visitare una realtà assolutamente innovativa e all'avanguardia, nonché profondamente legata al territorio aquilano. La nuova struttura conta circa 300 dipendenti e accoglie non solo le produzioni storiche di tale Salenia Space, ma anche nuove linee produttive dedicate in particolare alla realizzazione di antenne satellitari, leggeri e di grandi dimensioni. Firmata a Pescara la Convenzione dei Fidi, la firma è avvenuta presso la sede dell'Assessorato allo sviluppo economico. Con la firma della Convenzione, tra la regione e i consorsi di garanzia collettiva dei Fidi operanti in Abruzzo, avvenuta a Pescara presso la sede dell'Assessorato allo sviluppo economico, il sistema dei confidi beneficerà di 14 milioni di euro. Si tratta di fondi statali rientrandi nel programma operativo del Fondo Sviluppo e Coesione, risorse che i confidi che svolgono attività di intermediazione finanziaria dovranno utilizzare in tre annualità per rilasciare nuove garanzie in favore di tutte le micro e medie imprese abruzzesi, loro socie o che intendono associarsi. Regista dell'operazione, il Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore allo sviluppo economico Giovanni Lolli, che ha avuto parole di elogio per la struttura tecnica regionale in grado di velocizzare le procedure per mettere i confidi nelle condizioni di erogare i finanziamenti alle imprese nel più breve tempo possibile. È una FAS, per la verità, già programmato da molto tempo, che i confidi stavano aspettando. Quando parliamo di confidi, naturalmente parliamo di strumenti che servono a far arrivare le risorse agli artigiani e alle piccole imprese. È una cosa molto importante perché adesso facendo questa attività frenetica che sta facendo e incontrando tantissime imprese in Abruzzo, il problema principale che trovo, soprattutto tra la gran parte delle imprese, ricordiamoci che il 53% degli occupati in Abruzzo è occupato in aziende che hanno meno di 9 dipendenti. Ecco, questa tipologia di aziende oggi e da un po' di tempo ha un problema fondamentale, che è un problema di soldi, di risorse finanziarie. Dopo la firma della Convenzione, Lolli ha anche assicurato che entro la fine dell'anno verrà organizzato un seminario di studi sul credito con la finalità di favorire un maggior coinvolgimento e una maggiore attenzione del mondo bancario al sostegno del sistema delle micro e medie imprese abruzzesi. I proprietari di queste imprese hanno resistito in questi anni di crisi facendo fronte alle difficoltà attingendo ai propri patrimoni personali. Molti però ormai questi patrimoni personali li hanno esauriti. Quindi far arrivare risorse a questo sistema di imprese è la cosa principale, più importante. Direi il presupposto, perché poi si facciano tante altre cose che pure bisogna fare alle quali stiamo lavorando tipo attraverso i poli di innovazione, legare queste imprese tra di loro, legarle al sistema delle grandi imprese, lavorare all'internazionalizzazione, perché molte sono imprese che avrebbero tutte le qualità tecniche e tecnologiche per stare sui mercati internazionali, ma non hanno la dimensione per farlo. Ma tutto questo viene dopo. Prima è la sovrarrivenza, la vita. Buonasera e arrivederci ad una nuova edizione di Teleatri Notizie.